Grazie per essere qui C'è anche Michael Rogers che è uno degli attori del film, Andrea Bosca, attore Roberto, prego, applauso giustamente, grazie, grazie, bravi Abbiamo anche la parte produttiva, Roberto Sessa, Gian Paolo Letta e delegazione di Amazon e Fosforo Allora, io comincerei con le domande Io voglio fare una domanda iniziale a Costanza Il film Traficcante di Virus, come presumibilmente sapete Ovviamente è tratto dal libro della dottoressa e la recapa Io, Traficcante di Virus, che è uscito nel 2017 per Rizzoli Quindi io vorrei semplicemente chiedere a Costanza, quando ha letto il libro, quello che ha pensato Quello che ha immaginato leggendo questo testo Mascherina e microfono, però tentiamo di farcela È aperto, è aperto Salve a tutti Grazie di essere qui Quando ho letto questo libro mi ha affascinato l'idea di fare un film Che mettesse insieme diversi livelli narrativi Diversi piani di racconto Con al centro una donna che è una donna molto intelligente, volitiva Che si muove nell'ambito della scienza con tante difficoltà Nel mondo, diciamo, di una scienza gestita un po' al maschile, direi E che attraversa tante questioni italiane È un film sull'Italia che racconta come l'Italia a volte si trova nell'impasse È un film che racconta l'amore per il proprio lavoro L'amore per la ricerca scientifica C'erano tanti di quegli aspetti affascinanti Che ho deciso appunto di accettare questa sfida Con Francesca Archibuggi che aveva già letto il libro Aveva già immaginato un percorso narrativo Ed è stato bello condividere le scelte Per cercare di sciogliere quello che era un rebus in qualche modo Una storia a incastri Costanza giustamente ha identificato subito un tratto fondamentale del film Il fatto che sia comunque un film al femminile Da un certo punto di vista Tratto da un libro di Laria Capo Diretto da Costanza E interpretato da Anna Io faccio più o meno la stessa domanda Cioè nel senso, quando hai letto il libro Quali sono state le tue prime impressioni E quello che è poi il lavoro di attrice Nei confronti di un personaggio Che comunque sappiamo essere esistente E abbiamo tutti Da un certo punto di vista Permettetelo sfortunatamente ben presente Nel senso che l'abbiamo imparato a conoscere Per quello che stiamo vivendo Allora io spero che si senta Ma voi sentite? Eh no perché ha poco senso rispondere se poi non sentono Allora spero Cerco e lo so Così Wow Dunque questo libro mi è stato portato Da un responsabile che è qui presente Che è Giampaolo Letta Durante il lockdown Parliamo di marzo 2020 E l'ho letto tutto d'un fiato Non ero una di quelle persone attaccate alla televisione Aspettando che i virologi mi dicessero Quale sarebbe stata la mia sorte Da lì a un minuto Per cui l'aria capo la conoscevo Per quello che era stato il suo processo Diciamo così E il suo dossier rispetto all'epidemia tentata strage Quindi rispetto al suo caso giudiziario Per cui non avevo nessun tipo di idea Rispetto alla contemporaneità che stavamo vivendo E sull'entità della sua persona rispetto al coronavirus Rispetto alla pandemia Questo forse è stato una fortuna Perché mi ha concesso di essere più libera E indipendente rispetto all'interpretazione del personaggio La storia la conosciamo tutti È una storia incredibile È una storia che se non fosse vera Stenteremo a crederla reale È una storia di giustizia È una storia di emancipazione È una storia di lotta Di battaglia Di volontà Di determinazione Di emancipazione Insomma ci sono tantissimi elementi Quindi nell'interpretarla E nel cercare di restituire La mia idea di Ilaria Capua Irene Colli Ho dovuto attingere a quella che è la mia Il mio spirito battagliero Quello che è il mio La mia voglia di Far emergere ancora una volta La voce di una donna Che non voglio dire sgomita Perché detesto Non mi sono mai sentita stretta Però di una donna che rivendica Il suo bisogno di libertà E il suo bisogno di autoaffermazione Siamo qui nel 2020 Nel 2021 E ancora ci troviamo a riaffermarlo Con sempre maggior forza Lo dico spesso Le donne fanno due passi avanti E quattro indietro Dovremmo ripartire dal punto In cui siamo rimasti E andare sempre avanti E lo dico soprattutto Per le nuove generazioni Non facciamoci intimidire Non facciamoci abbattere Da quella depressione latente Nella quale ci vogliono far credere Che stiamo Ma troviamo dentro noi La forza La voglia di forzarlo Questo sistema Per cambiare davvero le cose Lo dico soprattutto alle donne Lo dico soprattutto agli uomini Lo dico alle nuove generazioni Grazie Anna Grazie Costanza Allora visto che abbiamo la fortuna Quest'anno Anche se come dicevo prima Con mascherina Che rende il tutto Particolarmente comodo Visto che però Siamo in presenza E abbiamo la fortuna Di avere i giornalisti Presenti in sala Io lascio la parola Ai giornalisti Se ci sono Delle domande Potete tranquillamente Alzare la mano Quando volete Ma Mi fanno segno Dalla regia Valentina Ecco Arrivo alla domanda Dopodiché passiamo Sì buongiorno Volevo chiedere A costanza Come Diciamo Trovo una linea Di continuità Rispetto al tuo lavoro Precedente Sullo sfruttamento Nei laboratori scientifici E su come La ricerca scientifica In Italia Viene condotta Spesso in modi Poco Poco puliti Poco corretti Quindi ti volevo chiedere Come Hai travasato Quelle esperienze Precedenti In questo film Che forse è un film Che parla un linguaggio Cioè Non forse Senz'altro È un film che parla un linguaggio Sicuramente più Per il grande pubblico Dove però Io ritrovo Dei tuoi Dei tuoi temi Cari a te Insomma Che hai approfondito In passato Beh sicuramente Nella lettura del libro Scritto da Ilaria Capua Ma soprattutto Nelle indagini Che ho fatto Per ambientare il film Nei laboratori di ricerca Ho attinto A come diceva Cristiana Paternò All'esperienza Che avevo fatto Nel 2013 Per fare un altro film Che si chiama Con il fiato sospeso Dove avevo girato Nei laboratori di chimica E ho anche attinto Al desiderio Che Che vedevo Nei ricercatori Che avevo visto Negli anni Nei ricercatori Avevo conosciuto Questo desiderio Avevo conosciuto Questa gioia Della scoperta Avevo conosciuto Tutti questi sentimenti Che sono fondamentali Che ho ritrovato In Ilaria E nel gruppo di ricerca Quindi è stato facile Per me Trasferire Quei sentimenti lì Quelle emozioni In questo film Perché La vita dei ricercatori È una vita appassionata Loro vivono Per fare questo Lavorano anche 20 ore al giorno Dentro i laboratori Noi abbiamo costruito Non soltanto Con Anna Foglietta Ma anche con Andrea Bosca Che è qui presente Dei personaggi Che sono appassionati Talmente tanto Che a volte Non riescono Neanche a reggere Le emozioni Quando arriva Il commissario europeo E dice Grazie alla vostra scoperta Potremmo cambiare Le direttive E il personaggio Di Giacomo Si emoziona Quindi non regge La tensione Per quanta fatica C'è dietro Ecco Tutto quello Io l'avevo Come dire In qualche modo Già acquisito Nel tempo Facendo quell'altro film Quindi I film Sono sempre Vasi comunicanti Cioè Si intercettano Le storie In questo caso Grazie a Epicomedia Grazie a Medusa Che me l'ha proposto E io ho trovato Delle corde Che mi risuonavano E quindi è stato bello Anche agire Su quelle corde lì C'è un'altra domanda Dal pubblico Prego Arriva il microfono Buongiorno Abbiamo una domanda Poi dopo Da internet Poi dopo Ridiamo la parola In pubblico Prego Valerio Cappelli Per Anna Volevo sapere Anna Prima Se hai incontrato Ilaria Capo Cosa vi siete dette Secondo Se lei nel libro La definisce Una storia Surreale Senza capone e coda Tu hai detto Una storia incredibile Volevo però Che argomentassi Un pochino Questo Cioè C'è solo invidia Professionale C'è solo disinformazione Come te la spieghi Questa vicenda Appunto Senza capone e coda E poi Ilaria Se vi siete conosciuti Allora Ilaria l'ho conosciuta Dopo Aver iniziato Le riprese In qualche modo Costanza Ha rispettato Quella che era Una mia volontà Perché Ma anche O a second anno Anche quella che era Una volontà di Costanza Perché La signora Capua È una mente Straordinaria Incredibilmente Straordinaria E non volevo In alcun modo Che Visto che io subisco Spesso il fascino Degli individui E degli esseri umani Non volevo che questa cosa Condizionasse la mia Indipendenza Nel restituire un personaggio Nella sua tridimensionalità Con luci ed ombre Dopo che l'ho conosciuta Effettivamente Ne è nata Un rapporto Una relazione Di grande stima E di affetto Non solo per quello Che le capita Ma soprattutto Per la condivisione Di certi tratti Delle nostre esistenze Rispetto al doversi Di strecare In un lavoro E del dover essere Anche madre Per esempio Che è un tema Ci ritorniamo sempre Però è un tema Se fosse stato Uno scienziato Non sarebbe stato Un tema Perché la paternità Non è come la maternità E lo sappiamo bene Per quanto riguarda Invece La straordinarietà Di questa storia Senza né capo E né coda L'argomento Ilaria Capua Era una studentessa Estremamente brillante Estremamente intraprendente Con delle grandi idee Con una grande portata Intellettiva Culturale Alla quale Non le veniva riconosciuta La straordinarietà Della sua testa Perché prima Veniva in anteposto Tutta una serie di elementi Di natura fisica Estetica Questi elementi Di natura fisica Estetica Erano necessari Scusate ma lo devo dire Al maschile Per indebolire il femminile Questo capita molto spesso A una donna Difficilmente viene riconosciuta Una bella donna Quanto sei intelligente Prima le viene detto Quanto sei bella Io lo noto Sui miei profili social Quando scrivo delle cose Che credo abbiano una caduta In termini come dire Culturali Mi dicono tutti Quanto sei bella Quanto sei bella Ma scusa ma Ho detto un'altra cosa Io ti sto a dire un'altra cosa Perché mi devi di quanto sono bella Ti sto parlando Non ti sto dicendo Quanto sono bella Evidentemente Avevo proprio questa difficoltà Cioè E proprio non ce la facciamo A voler vedere la testa Delle donne Abbiamo più bisogno Di vedere le labbra Le forme Io lo vedo come un elemento Di indebolimento Cioè in qualche modo Ti fanno sentire Ancora nel bisogno Di Mostrare Di mascolinizzarci Bene Io qui dico Non mi avrete mai Perché non mi voglio Mascolinizzare Per cui sono stata contenta Di portare in scena Questa storia Perché credo che in qualche modo Il personaggio non rinunci mai Alla sua componente femminile Alla sua componente materna Alla sua componente accudente All'interno del laboratorio Credo che lei sia molto accudente Nel senso più bello e alto Del termine Con i suoi compagni E credo che una donna In un laboratorio Sia un elemento in più Una voce in più Perché riusciamo Sì Ad ascoltare Ad ascoltare tanto Noi donne E a dare lo spazio giusto Anche per esprimersi Agli altri E in questa storia Non è capo né coda Non credo che avrebbe avuto Lo stesso risonanza Se fosse successo a un uomo Io credo che non è Tu ti riferivi all'Italia Al maschilismo Però c'è stato Nei suoi confronti Un silenzio Della comunità scientifica Internazionale L'Organizzazione Mondiale Della Sanità Ha detto delle cose forti Quindi non è solo Capito Quello che tu dici Che certamente c'è Ma c'è dell'altro Però lei è stata anche riconosciuta Il merito di essere Una revolutionary mind Lei è stata con lei Che ha messo Su un accesso libero Una sequenza Del virus nigeriano Per consentire I nigeriani stessi Di poter lavorare Contro la viaria Lei ha fatto comunque Un atto secondo giustizia Andando contro la legge E questo L'Organizzazione Mondiale Della Sanità Gli l'ha riconosciuto Poi probabilmente È stata un po' emarginata Quando si trattava Di aiutare Nel momento più difficile Della sua vita Però adesso lei gestisce Uno dei laboratori Di massima sicurezza Pi' importanti del mondo In Florida Ci dobbiamo domandare Se quello che tu stai dicendo Riguardo soprattutto L'Italia O la comunità internazionale Scientifica Io credo un pochino più L'Italia Allora a questo punto Diamo la parola Caterina Taricano Che ci porta invece Le domande Che arrivano dai giornalisti Che ci seguono su Zoom Sì Allora Buongiorno a tutti Abbiamo una domanda Da remoto Da Anna Maria Pasetti Del Fatto Quotidiano Allora Per la regista La cosceneggiatrice Il libro Porta nel titolo Io Trafficante di virus Perché avete cancellato Quell'io Che è assolutamente significativo E pertinente Nell'assunzione di responsabilità Della protagonista E poi in che modo È stata coinvolta Ilaria Capua Però insomma in parte È stata anche risposta Posso rispondere Che i titoli Sono sempre Delle avventure In questo caso L'avventura È stata quella Di trasferire Dal libro E quindi dal nome Di Ilaria Una Sullo schermo Una donna Che si chiama Irene E che in qualche modo Porta con sé L'esperienza Non solo Della donna Che ha ispirato La storia Ma anche Di tante altre donne C'è anche da dire Che l'io In questione È un io ingombrante Tanto è vero Che ci sarà A un certo punto Del racconto Un personaggio Che dice Ma lei Perché dice sempre Io E non dice noi Questo io Diventa Quasi una colpa Per certi versi È un io Gigante È un io Colpevole È un io Egoista È un io Divistico È un io Che fa paura Ecco In qualche modo Questo io È diventato Qualcosa Sulla quale Non si è mai Posto il problema Di metterlo Nel titolo Sinceramente Poi La scelta Dei titoli A volte Appunto Segue strade Che sono Altre Cioè Legarsi al libro Eccetera Posso fare Una riflessione Su questo io Ecco Questo lo posso dire Allora Continuiamo con Le domande Invece Provenienti Della sala Se ci sono Prego Certo Buongiorno a tutti Io sono Giampaolo Letta Della Medusa Scusate le spalle Ma do Qualcune informazioni Per i giornalisti Il film Uscirà in sala Per tre giorni Come evento Cosiddetti Lunedì prossimo Martedì E mercoledì E poi sarà Disponibile Su Amazon Prime Video Dieci giorni dopo Credo dal 13 Dal 13 Di dicembre Amazon Che è qui presente Che vorrei ringraziare Perché Ha creduto Sin dal principio In questo progetto Un progetto Che Ci aveva Catturato Entusiasmato Insieme a Roberto Sessa Di Pico Media E poi a tutti i compagni E le compagne Soprattutto di viaggio Che abbiamo trovato Perché secondo noi È una storia Molto forte Molto bella Innanzitutto Una storia di una donna Di una scienziata Di una ricercatrice Che ha Che è cresciuta Che ha combattuto In un ambiente Maschile E anche maschilista Come è stato detto prima Ma ci tengo a A risottolinearlo Perché ha incontrato Molte più difficoltà Di quelle che avrebbe potuto Incontrare In altri contesti L'altro fattore È stato chiaramente La vicenda Non Aime isolata Soprattutto in Italia Ma particolarmente significativa Che ci ha purtroppo Diciamo privato Di una scienziata Del suo livello In Italia E L'ha costretta A emigrare In America Costretta Si fa per dire Perché Il centro Per cui lavora Ormai da diversi anni Non si è fatto Sfuggire l'occasione Di Prenderla immediatamente E quindi Sottrarla Alla scienza italiana Per questi I motivi Insomma Credevamo Abbiamo creduto Che fosse Una storia Da raccontare Di un Di un Grande personaggio Italiano E anche Con tutti questi elementi Adesso non voglio Ripetere Chiaramente Quello che è stato Già detto Comunque In sala Lunedì Martedì Mercoledì E poi su Amazon Prime Grazie Grazie Gianpaolo Letta E altre domande Dalla Dalla sala Ok Allora Visto che Gli elementi Sono tantissimi Ed è comunque Molto Bello vedere Come il cinema Di Costanza Quattrillo Poi rifletta Tantissime Delle Delle cose Che ci accadono Non solo La parola virus Che è presente Nel titolo Del libro E del film Ma anche Tutti i temi Che ha sollevato Anna E Gianpaolo Adesso In questo momento Abbiamo però La fortuna Di avere con noi La protagonista Del film Cioè Ilaria Capua Che in questo momento Ci sta seguendo A cui io darei A questo punto La parola Grazie Alla regia Buongiorno Io ci sono Ma non riesco A sbloccare la camera Perché È sbloccata Da dove la dovete Sbloccare voi Mi sentite È in Florida Ovviamente Come Immagino sappiate Però Comunque è giusto Ricordarlo Ilare Capo Che ci segue Dalla Florida Stiamo lavorando Per tentare Di sbloccare la camera Però almeno Possiamo sentire Sentire la sua voce Ah ecco Mi sentite bene Era che non vedevo Nessun gesto Di così Siete un po' Lontani Siamo un po' distanti Sì Siete un po' Lontani Allora Mentre No Non riesco A accendere La camera Però capisco Che non abbiamo Molto tempo E allora Volevo Dire un paio Di cose Nella mia vita Mai e poi mai Mi sarei immaginata Di Di essere A un festival Del cinema E di parlare Insomma Di un film Che è tratto Da un libro Che ho scritto Ormai Quattro anni fa E E su questo Volevo dire Che Per me È un grande onore Esserci Perché L'arte Spesso Fa D'anello Di congiungimento Fra La La realtà Le cose Che sono Realmente Accadute E La comprensione Di determinate Storie Di Determinate Vicende Che Devono essere Raccontate E Questa storia È una storia Che è molto Femmina È molto Femmina Per tantissimi Motivi Anna Foglietta Prima Parlava Di Atteggio Mio Atteggiamento Comunque Della protagonista Materno Ed Ed è vero Madre natura Ha affidato La perpetuazione Della specie Umana Al genere Femminile Ed è una Ed è una Storia Quindi Che Che mostra Le contraddizioni Che ci sono Per lo meno Nel percepito Fra cosa significa Essere Una donna Che si impegna Tutti i giorni Tutti i giorni Per ottenere Determinati Risultati Che sono Importanti Per Diciamo Tenere sotto Controllo Alcune malattie E Quello che Quella donna Deve fare Tutti i giorni In laboratorio Con i propri Superiori Con i propri Collaboratori Con Diciamo Le istituzioni Ma Ma anche Cosa deve fare A casa Perché quella donna È una bambina Piccola Che a un certo Punto Insomma Si trova Suo malgrado A dover Vivere Una storia Così Dura Ecco Questa storia Che è una storia Veramente Raccontata Interpretata E molto Vissuta Da Delle donne A me Porta Diciamo Tre Messaggi Molto Molto Forti E Il primo E il più Importante È quello che Nella vita Purtroppo Succedono Delle cose Che sono Brutte Lo sappiamo E sappiamo Che ti capitano Delle Delle Anche dal punto Di vista Personale No A volte Si prendono Delle Delle malattie Succedono Degli incidenti Ti Diciamo Ti si mette Per traverso Ecco Ti si mettono Per traverso Delle Parti Della vita Ecco Io credo Che Una delle sfide Più grandi Che abbiamo È quella Di Prendere Questi momenti Difficili E trasformare E trasformarli In qualcosa Di utile In qualcosa Di utile Per gli altri E io credo Che questo film Ci sia riuscito Questo film È stato in grado Di mostrare A voi Che non avete mai Messo il naso Dentro un laboratorio La bellezza Della ricerca La forza Di un gruppo Di ricerca La magia Che c'è All'interno Di un gruppo Di ricerca Che lavora Affiatato E lavora Appunto Per un obiettivo Superiore Questo film Mostra anche La leadership Femminile Può esistere Una leadership Femminile Anche in gruppi Di ricerca Diciamo Riconosciuti A livello Mondiale E Possono Esistere Dei gruppi Che credono Nella leadership Femminile Non è vero Che la leadership Femminile È sempre Ostacolata Anzi Spesso È riconosciuta È riconosciuta Dai collaboratori E dai colleghi E poi volevo dire Che Che questo film Mette in evidenza Anche Una cosa Che mi sta Particolarmente A cuore E che è Il processo Sui giornali E Attraverso Diciamo La Impropria Così Rappresentazione Senza Un Sostanziamento Senza Nessun Diciamo Senza che La storia Sia passata Attraverso Un tribunale Un luogo di giustizia Ecco Sbattere il mostro In prima pagina È Qualche cosa Che distrugge La vita Delle persone Distrugge La rispettabilità Delle persone E La reputazione E Quindi Il mio Il mio Grido È quello Che Non è giusto Non è giusto Che Attraverso Delle ipotesi Che non sono Scientificamente Provate Diciamo Così Si possa Si possano Creare Dei danni Come Quelli Purtroppo Che sono stati Creati a me Come persona Ma anche a tutto Il mio Gruppo Di ricerca Che si è In parte Disgregato E Insomma Non è riuscito A dare all'Italia Quello Di cui L'Italia Avrebbe avuto Bisogno Particolarmente In questo momento Che Stiamo vivendo Un'emergenza Pandemica Quindi Questo Film È un film Che vorrei Che servisse Come Molla Per riflettere Su Alcune Storture Alcuni Stereotipi E Alcune Brutte cose Che A volte Accadono Nel nostro Paese Vorrei però Anche dire Che Se io sono Diventata Diciamo Un personaggio Conosciuto E noto Nella comunità Internazionale Io sono Una scienziata Made in Italy Che ha studiato In Italia Che ha lavorato In Italia Che ha creato Dei gruppi Di lavoro In Italia E che le cose Più importanti Dal punto di vista Della propria carriera Le ha fatte Proprio in Italia Grazie Ringrazio Ringrazio ovviamente La Recapa Che ci sta seguendo In remoto E dalla Florida Dall'America Come sapete Dove sta in questo momento La fortuna comunque Devo dire Di avere Donne come La Recapa Cosanza Quatriglio Anna Foglietta Di poter vedere Il loro lavoro E soprattutto Il lavoro di La Recapa Ha trasformato In quella che poi La nostra materia Ovvero il cinema Quindi è un grande onore Siamo quasi in chiusura Abbiamo tempo Per un'altra domanda Dal giornalista O dal pubblico In sala Se c'è qualcuno Se c'è qualcuno che vuole Alzare la mano Per farti vedere In modo da poter fare Una domanda Altrimenti Do la parola Alla mia amica Caterina Taricano Che ci riporta Invece una domanda Che è arrivata Dalla sala stampa Virtuale Quindi da quelli Che ci seguono Su Zoom Prego Caterina Sì allora La domanda è di Patrizia Simonetti Di spettacolomania.it Una domanda per la regista Ovviamente per Anna Foglietta Entrambe Vi sentite un po' responsabili A uscire ora In un periodo di lotta A un virus E di deliranti Teorie complottistiche O è stato deciso Appositamente Io mi sento sempre Il responsabile Quando faccio un film E quando esce un film Qualsiasi cosa Di qualsiasi cosa Tratti Diciamo Quindi Questo Non mi sottrago Alla responsabilità Penso che Aver lavorato A questo film In tempo di pandemia Mi abbia permesso Di capirne la portata In modo molto rapido Perché Io ho lavorato A questo film A partire da qualche mese fa Di fatto Perché Ho cominciato a marzo E quindi ho fatto Un corso accelerato Di tutte queste questioni Complesse Astruse Misteriose Affascinanti Quali appunto Quelle Delle questioni scientifiche Di cui Parlo nel film E sono stata Aiutata Sicuramente Dal fatto di aver fatto Esperienza Del tempo della pandemia Per esempio Mi ha Mi ha Mi ha Stupito Scoprire Come Del salto Di specie Dei virus Dall'animale All'uomo Se ne parlava Già vent'anni fa Forse anche di più Ovviamente di più Lo diranno Gli scienziati Ma io non ne sapevo niente Quindi Pensare Di fare questo film In un tempo In cui Questo lessico Probabilmente Non ci sarebbe stato Penso che sarebbe stato Molto più complesso Quindi io mi auguro Che Così come E certe questioni Hanno risuonato Per me Risuonino Per chi Andrà a vedere Il film Perché il film Ci riguarda tutti Non è un caso Che il film Qualcuno mi faceva notare Oggi Tra le domande Comincia con L'episodio Dell'11 settembre L'episodio Dell'11 settembre Fa parte Della memoria Di tutti quanti noi Ecco Quella cosa lì Ci dice Che ci riguarda Questa è una storia Che riguarda profondamente Tutti Quanti Noi Anna vuoi aggiungere qualcosa? Ma voglio soltanto aggiungere Che forse Vedere questo film A seguito di quello Che abbiamo vissuto E a seguito Delle tante polemiche Che sento ogni giorno Alla ribalta Sui giornali Qua veramente Solo italiani Perché sono stata fuori A girare un film In Belgio No vax Provax Neanche sanno cosa sono Penso che possa aiutarci A comprendere Quanto lavoro E quanta passione C'è dietro A una scoperta Scientifica E quindi A non vedere Sempre una sorta Di dietrologie Di complottismo Ma di vederne La portata Incredibile Se pensiamo A quanto progresso È stato fatto Fino a 30 anni fa Si moriva Intorno ai 75 anni Ora l'età media È avanzata notevolmente E questo grazie Alle scoperte scientifiche Non dobbiamo mai Dimenticarcelo Anche quando Purtroppo A causa della paura Si latita O si teme Giustamente Perché è un sentimento Umano Ma non dobbiamo Mai perdere La fiducia Rispetto a chi Impiega Tutta la sua vita In luoghi Spesso anche Malsani Con stipendi A volte ridicoli Per creare Per scoprire qualcosa Che è una ricaduta Che è una ricaduta enorme Sulle nostre esistenze Sulle nostre vite Insomma Spendiamo anche due parole A favore di questi scienziati Che comunque impiegano La loro vita La sacrificano anche per noi Invece di denigrarli Un po' troppo spesso Questo mi sento di dire Quindi non solo per il loro lavoro cinematografico Che insomma Seguiamo e conosciamo da tempo Ma io ci tengo a ringraziare Costanza Quattrillo E Anna Foglietta Per le parole Che hanno detto Quest'oggi In questa conferenza stampa Ringrazio ovviamente Anche la parte tecnica Che ci ha permesso Di sentire la voce Di Ilaria Capua Abbiamo parlato Di trafficante di virus Di Costanza Quattrillo Presentato fuori concorso Alla 39esima edizione Del Festival di Torino Ringrazio Oltre a Costanza Anna e Ilaria Capua Michael Rogers E Andrea Bosca Che sono gli attori Del film Ringrazio anche La parte produttiva Roberto Sessa E Gian Paolo Letta Che abbiamo anche prima sentito Che ha ricordato Peraltro Gli appuntamenti In sala Del film E poi Quando arriverà Invece Su Amazon Grazie ancora Per essere stati con noi E grazie a Costanza Quattrillo E Anna Foglietta Grazie ancora